Terza giornata della serie di calcistica con l'attesa sfida dell'audace Cirignola in trasferta contro il Graniano alle 15 oggi, poveriggio per riscattare la brutta prestazione interna contro il Nardò finita 0-0. 24 ore prima era giunta la notizia che i gialloblu avevano vinto il ricorso contro i campani in merito al primo turno di Coppa Italia. 0-3 a tavolino e passaggio al secondo turno, il ricorso pendeva su una squalifica irregolare di un giocatore campano. Sul fronte agonistico è chiaro come questa sfida rappresenta un punto importante della stagione, anche perché cominciare a nutrire dubbi sarebbe prematuro dopo poche partite, nonostante un mercato incentrato proprio per fare una squadra che puntasse all'ennesima buona stagione, ed i presupposti ci sono tutti. Arbitro del confronto sarà Centi di Viterbo, Mimmo Siena, Speciale News, Web24.